pronti signor concetto river buona giornata sono pasqual la pietra pasqual la pietra insomma mi avete chiamato che avevate un tubo che scorre nel condominio via lecinelle 21 chiaramente insomma se se il tubo ci scorre va tappato il buco fatemi sapere insomma quando posso venire ditemi un attimino un'ora una cosa per cui magari mi posso organizzare se c'è un tubo che scorre va tappato quindi questa cosa è importante e mi devo organizzare che poi non è che non c'ho un solo tubo che scorre ragazzi i tubi che scorre sono parecchi quindi datemi un orario fatemi sapere nel miglior modo possibile quando posso venire un attimino a tappare su questo tubo che scorre mettiamo un po' di stop un po' di cose vediamo un attimino qual è la motivazione per cui questo tubo scorre da problemi che pure perché poi alla fine se bagni il pavimento quello di sotto più tutto l'acqua che è scesa si crea una situazione che voi andate a pagare 50 volte più di tanto quindi fatemi sapere chiamate mi raccomando nel breve tempo si è una gara e veniamo a vedere sto tubo in che condizioni sta buona giornata non è Grazie a tutti.